È possibile potenziare le capacità del nostro cervello, quindi memoria, attenzione, concentrazione, senza dover ricorrere a farmaci e droghe? Scopriamolo insieme! Ciao a tutti, io sono la dottoressa Carlo Tagnavi, farmacista e coach del benessere, e oggi sono qui per parlarvi di quelle sostanze naturali in grado di potenziare le nostre capacità cerebrali. Ricordiamo sicuramente tutti la potente pillola NZT48 del film Limitless, in grado di potenziare enormemente le capacità del protagonista del film. È un sogno un po' di tutti, no? Quello di avere una memoria incredibile, una capacità di attenzione e concentrazione fuori dagli schemi, che ci permetta di rendere decisamente di più nel lavoro, in tutto ciò che facciamo. Ma prima di entrare nel tema, se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo. Clicca qui sotto su iscriviti e attiva le notifiche con la campanellina che trovi di fianco, così ad ogni settimana riceverai la notifica del nuovo video, anche se, seguendo i miei consigli, probabilmente non ti servirà più alcuna notifica. Allora, perché dicevo, no? Questo è un sogno, un sogno un po' di tutti, avere delle capacità fuori dal normale, no? Che ci permettano di renderci la vita più semplice. E non è un caso che oggigiorno questi farmaci nootropi, ovvero in grado di potenziare l'attenzione, la memoria, la concentrazione, così come anche alcune droghe, vengano sempre più richieste, soprattutto da studenti di importanti università mondiali. Purtroppo ci viene richiesto sempre un'efficienza esagerata. Ecco, gli standard sono sempre più alti e le persone cercano in ogni modo di poterli raggiungere, anche in modi non troppo etici o legali. Ma oltre all'aspetto etico, io mi chiedo, ha un senso dover ricorrere a un farmaco. Ricordiamo che farmaco dal greco deriva la parola pharmakon, che significa medicina, cura, ma anche veleno. E quindi mi chiedo se abbia un senso ricorrere a un farmaco per ottenere delle migliori prestazioni. Il farmaco ha degli effetti benefici, ma anche ha degli effetti collaterali. Quindi il farmaco viene utilizzato quando i pro superano i contro. In questo caso significa semplicemente potenziare delle nostre capacità. Ma non è possibile potenziarle cambiando lo stile di vita, ad esempio, o attraverso un'integrazione naturale, o lavorando in modo sinergico? Certo che sì, ed è proprio quello che io desidero condividere con voi oggi. Prima di tutto dobbiamo capire che il cervello ha bisogno di un nutrimento adeguato. Il cervello si nutre di glucosio, ma se la nostra alimentazione è troppo ricca di zuccheri, ecco che questo zucchero in eccesso non lo va a potenziare, ma lo va a stordire. Quindi prima di tutto dobbiamo avere un'alimentazione sana, varia ed equilibrata, ricca di cereali integrali a basso indice glicemico, vegetali, quindi frutta, verdura, ricca di antiossidanti, ricca di vitamine necessarie per il corretto funzionamento neuronale, di proteine e di acidi grassi essenziali. Se vogliamo un cervello potente nella nostra alimentazione non devono sicuramente mancare fonti di acidi grassi omega 3, come ad esempio il salmone, le aringhe, le sardine, ma anche le noci. Se abbiamo il dubbio di non mangiarne a sufficienza, piuttosto integriamo con dei buoni integratori di omega 3. Sottolineo buoni, perché purtroppo sul mercato ci sono tantissimi integratori di omega 3, però ricordatevi che gli omega 3 derivano quasi esclusivamente, ma anche dalle alghe, ma quasi esclusivamente dall'olio di pesce. Quindi se questo olio non è distillato molecolarmente, non subisce determinati trattamenti, tra l'altro anche abbastanza costosi, il risultato finale, quindi l'integratore, potrebbe contenere troppi metalli pesanti che assolutamente andrebbero a indebolire la nostra salute e il nostro cervello. Altro alimento che non dovrebbe mancare per un cervello sano e in forma è l'olio di cocco. L'olio di cocco, ricco di acidi grassi saturi a media catena, in grado di essere convertiti velocemente in corpi chetonici, si dimostra un vero nutrimento per il nostro cervello. Sono numerosi gli studi scientifici che hanno dimostrato queste proprietà dell'olio di cocco di nutrire i nostri neuroni e migliorare le capacità di memoria e attenzione. Altro alimento essenziale per il nostro cervello è sicuramente la curcuma. La curcuma è un'importante spezia indiana, noi la possiamo utilizzare come spezia sempre aggiunta però al pepe nero perché altrimenti l'assorbimento è quasi nullo, oppure utilizzarla sotto forma di integratore. In questo caso io consiglio sempre degli integratori con formulazioni brevettate che permettano una buona biodisponibilità perché l'unico problema della curcuma è il suo assorbimento. Però la curcuma ha tantissime proprietà, l'abbiamo visto in un precedente video, è un antinfiammatorio, un antitumorale, un antiossidante molto potente, ma la capacità di favorire la neurogenesi, cioè la produzione di nuove cellule neuronali, quindi lavora direttamente sulla plasticità del nostro cervello, quindi su memoria, concentrazione e attenzione. C'è un importante studio dell'università di Los Angeles che ha preso in considerazione 40 soggetti, non con Alzheimer o patologie di demenza gravi. Sono stati divisi in due gruppi, lo studio è andato avanti per 18 mesi ed è stato visto che il gruppo che per 18 mesi ha assunto 90 mg di curcuma al giorno ha avuto un incremento delle sue capacità di memoria e di attenzione del 28%, oltre che un miglioramento dell'umore rispetto al gruppo di controllo che assumeva una pillola senza assolutamente curcumina. Quindi anche scientificamente la curcuma è risultata assolutamente efficace. Altro rimedio naturale che io consiglio per potenziare le nostre capacità cognitive è sicuramente il coenzima Q10. Il coenzima Q10 in realtà ci serve per tante cose perché il coenzima Q10 è un potentissimo energetico del nostro corpo, perché è coinvolto nella produzione di ATP, ovvero la moneta energetica delle nostre cellule, all'interno dei mitocondri, quindi interviene nella produzione di energia e noi sappiamo che un soggetto con tanta energia, proprio anche ATP, è in grado di svolgere molto meglio funzioni di memoria, di concentrazione e di attenzione. Il coenzima Q10 anche in questo caso, un po' come per la curcuma, ha semplicemente il problema dell'assorbimento e della biodisponibilità, quindi vi rimando al mio precedente video per eventualmente, se vi dovesse interessare, capire come scegliere un buon integratore di coenzima Q10. C'è una vitamina poi essenziale per una buona memoria, una buona capacità cognitiva che è la vitamina B12. Questa vitamina noi la possiamo trovare sotto forma di diversi vitameri, con vitameri intendiamo diverse forme. Io vi consiglio, se voleste integrare la vitamina B12, di scegliere sempre la forma della metilcobalamina, perché normalmente è più facile trovare la cianocobalamina, che però deve essere poi convertita, metilata, in metilcobalamina, che poi è la forma attiva. Poiché c'è parte della popolazione che ha un difetto genetico e quindi non è in grado di metilare la cianocobalamina, il rischio è poi non avere un buon quantitativo di vitamina attiva, quindi io vi consiglio di integrare direttamente la metilcobalamina. La vitamina B12 è molto potente perché è in grado di stimolare la corretta mielinizzazione dei nostri neuroni, quindi è direttamente coinvolta nella struttura del neurone, così che possa funzionare bene e l'impulso possa viaggiare correttamente da un neurone all'altro. Sempre a livello di neuroni è importante anche una buona integrazione di magnesio, perché il magnesio soprattutto in questo caso per il benessere del cervello io suggerisco la forma di magnesio treonato, è in grado di migliorare la sinapsi tra un neurone e un altro, quindi il collegamento tra i neuroni e questo permette un miglior trasporto dell'informazione da un neurone all'altro. Dopodiché non dobbiamo dimenticarci l'utilizzo dei funghi medicinali. Chi mi conosce sa che io ho una predilezione per la micoterapia. I funghi medicinali, in particolare i reishi, il canoderma lucidum, così come l'ericium erinaceus, hanno una capacità straordinaria nell'aumentare la memoria, l'attenzione, i processi cognitivi. Non a caso il reishi è noto anche come il fungo dei mille anni, proprio perché aiuta a ricordare. Il reishi è un fungo adattogeno che quindi riesce a supportare il nostro benessere anche in caso di stress e noi sappiamo che il cortisolo e lo stress peggiorano la nostra memoria ed ecco che quindi l'utilizzo di adattogeni come ad esempio reishi ma anche come una vitania somnifera ad esempio possono favorire i meccanismi di apprendimento e di memorizzazione. C'è poi un'altra categoria di rimedi fitoterapici in grado di migliorare i processi di memorizzazione e di attenzione. Sono gli oli essenziali. Ci sono tantissimi oli essenziali proprio deputati a questo. Quelli che io vi raccomando sono quelli di limone, di basilico e di menta piperita. Voi potete sceglierne uno, utilizzarli tutti e tre invece in un diffusore, potete semplicemente imbibire un vostro fazzolettino che tenete in tasca e quando studiate annusate direttamente questo fazzolettino. Mi raccomando non annusate gli oli essenziali direttamente dal flaconcino perché avvertireste soltanto le note di testa quindi imbibite sempre un pezzettino di cotone, un fazzolettino. Se è un olio essenziale che possiamo utilizzare anche direttamente sulla pelle lo possiamo fare però tanti è meglio non utilizzarli direttamente a contatto della cute e quindi piuttosto imbibite qualcosina. Oppure lo mettete semplicemente in un diffusore ultrasuoni che potete anche tenere sulla scrivania o vicino a dove state lavorando. Vi assicuro che gli oli essenziali hanno notevoli capacità oltre che antibatteriche, antivirali e tutto quello che già conosciamo proprio sulla stimolazione del nostro cervello. Oltre a tutto questo dobbiamo però ricordarci degli altri due pilastri che ci permettono una buona memorizzazione, una buona capacità cognitiva. Una è il sonno, il sonno ci permette di memorizzare sia a livello immunologico che a livello cerebrale di ciò che avviene durante la giornata, delle cose che abbiamo letto, quindi è fondamentale avere un sonno non interrotto e un sonno sano perché sono proprio le onde teta che sviluppiamo durante la fase REM del nostro sonno che ci permettono una migliore memorizzazione degli eventi. L'ultimo pilastro invece è quello dell'attività fisica. L'esercizio ci permette di stimolare il fattore neurotrofico cerebrale, quindi ci permette di creare nuove connessioni tra i neuroni, avere una maggiore plasticità cerebrale e di migliorare attenzione, memoria e concentrazione. La società di oggi ci porta a desiderare la pillola magica perché quella non ci richiede nessuno sforzo, non ci richiede una presa di coscienza, non ci richiede uno sforzo di volontà, ma vi posso assicurare, lo vedo quotidianamente nel mio lavoro, che chi desidera tirarsi sulle maniche e investire su se stesso cambiando il proprio stile di vita, il proprio modo di vedere il mondo e la propria alimentazione, la propria integrazione raggiunge sempre il suo risultato e diventa veramente la versione migliore di se stesso. Vi auguro tutto questo, io spero con questo video di esservi stata utile, se così fosse mi raccomando condividete questo video con chi volete bene, io vi mando il mio più caro abbraccio, se vi è piaciuto il video mi raccomando un like di supporto, grazie, un bacio grande, alla prossima settimana, ciao! Ciao!